Il titolo sembra un po' clickbait ma non lo è affatto e adesso vi spiego il perché. Direi di introdurre subito il discorso perché penso abbiate letto tutti quanti il titolo. Durante quelle poche live che ho fatto mi è capitato spesso di ricevere delle domande riguardanti Minecraft Windows 10 Edition e io ovviamente ho sempre risposto allo stesso modo, ossia per quanto mi riguarda per me il vero Minecraft sia perché è stato quello effettivo creato in una nocce, sia perché effettivamente se una persona ha un PC e mi dice vuoi giocare a Minecraft insieme a me, non ci penso neanche ad avviare Windows 10. Per carità la versione Windows 10 avrà tutte le sue caratteristiche belle e brutte, per esempio se non sbaglio ha un framerate migliore tipo alcuni snapshot arrivano prima lì, e sì è una roba strana da dire ma alcuni snapshot arrivano prima lì ho sempre risposto che non avrei mai comprato Windows 10 Edition perché mi è sempre sembrato uno spreco di soldi essenzialmente e oggi la Mojang ci ha appunto riflettuto un po' e ci ha dato una risposta. Se avete Minecraft Premium e aprite il launcher di Minecraft noterete una strana scritta, scritta che tradotta in italiano dice in estate riceverà in Minecraft gratis. Adesso vi spiego. No, non significa che tutti i giocatori SP diventeranno Premium, ma significa che se avete comprato Minecraft Java riceverete Windows 10 Edition e viceversa ovviamente. Questa cosa la trovo molto utile perché effettivamente alla fin fine è lo stesso gioco nonostante ci siano delle meccaniche diverse, quello che volete, e soprattutto se vogliono unificare i tuoi giochi questa cosa potrebbe essere abbastanza utile. Ho finito perché saranno messi che non giocano a Bedros, ma va bene, quindi sti cavoli. Quindi sì, l'obiettivo di questo video era informarvi di questo. Non so quando sarà di preciso perché c'è scritto in estate, quindi molto generico. Dubito che sia per le persone che devono ancora acquistare Minecraft, ossia se lo compri in estate ti regalo sia la versione Java che la versione Windows 10, perché non ha senso, soprattutto perché il messaggio dice chiaramente tu hai Minecraft Java, regalerò Minecraft Windows 10 Edition. Quindi toglierei subito l'opzione del fatto che bisogna comprarlo di nuovo. E sono abbastanza contento di questa cosa. Non hanno citato Minecraft Dungeon, ma è giusto perché Minecraft Dungeon è un gioco completamente diverso, tant'è che l'ho acquistato, quindi essenzialmente sì. E qui c'è un verde. Non so se questa cosa riguarda anche in minima parte la migrazione degli account che c'è stata. Comunque se dovete migrare ancora l'account e vi è già spuntata la notifica, vi consiglio di farlo, perché a livello di sicurezza i server Microsoft dovrebbero essere meglio di quelli Mojang. E ne so qualcosa perché c'è stato un attacco informatico a quelli della Mojang. Dovennate a chi è stato carato l'account? Esattamente. Se non sbaglio tipo erano a rischio gli utenti da un tot anno fino al 2021-2020, adesso non ricordo, perché ovviamente avranno attaccato un solo server, un database e hanno beccato una sola parte degli utenti. E indovinate che ha comprato Minecraft proprio in quel periodo? Esatto, io. Quindi che tristezza. Ah, è appena respawnato il rosa. Non so se il rosa abbia le hack, non voglio accusarlo perché sono molto arugginito di mio, quindi sì. Dunque sì, praticamente un po' di tempo fa mi era stato creato l'account di Minecraft, roba che adesso ho risolto, e soprattutto mi rincuore il fatto che non sia stata colpa mia perché hanno creato proprio la roba della Mojang. Beh, è una roba abbastanza trista effettivamente. Avere così poca sicurezza informatica al giorno d'oggi. Che attacco informatico era? Vola di sotto, non ci credo. Ok, perfetto, finalmente. Per il resto Windows 10 Edition di certo non mi cambierà la vita. Penso che continuerò a fare video sul Minecraft principale, ossia quello Java. Nonostante qualche video potrebbe uscire sulla Windows 10 Edition, come per esempio provare l'effettivo ray tracing, che ho provato su vari giochi, ma non ho provato su Minecraft. Quindi vorrei ancora provarlo. Una bella mossa secondo me da parte di Mojang, perché questo qui apre le porte a tante varie cose. Detto questo, se non ho rimasto solamente io e il verde, il video sta durando 8 minuti al momento di questa registrazione, quindi controllate adesso a quanto siete arrivati di video effettivo. Fortunatamente avevo le frecce. La cosa che posso fare è continuare ad acquistare frecce, sperando che non le compri anche lui. Detto questo direi di concludere questa partita, e ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo argomento. Eh, devo riprendere mano con Minecraft, raga. Non ci gioco più tanto. Almeno. Dai, puoi hackerare così palesemente? Non credo se se laggano, perché io l'ho proprio visto volare, quindi che tristezza. Boh, vediamo se riesco a raggiungere bassa sua, sempre se non vola e tipo mi raggiunge in 30 secondi, ma... Bene, e con la mia vittoria direi che questo video può anche concludersi. Siedemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate dell'argomento che ho trattato in questo video, ditemi se siete felici di ricevere Minecraft gratuitamente, e basta, essenzialmente, nulla. finirà. Ehi, vediamo qui. Ehi, vediamo qui. Grazie a tutti.